Tre golle, nessuna rete presa, tanto pressing e grande intensità, il derby in corona, la Fidelis Andrea contro un Taranto apparso in grande difficoltà invece al degli Ulivi, la squadra di Vito di Bari non risolve tutti i problemi, ma la vittoria che mancava in casa praticamente da un girono intero e in una sfida così sentita può valere davvero doppio e cancellare molte delle paure viste in gran parte della stagione. Tante le assenze da ambo le parti, nella Fidelis mancano Tulli e Sorrentino squalificati mentre Benvenga è legittimo, sono gli infortunati, la scelta è 4-2-3-1 con Di Piazza Unica punta e Gaeta Bubas e Casoli sulla tre quarti, torna a titolare anche Ciotti in difesa sulla destra, per la terza invece diverse le assenze soprattutto in attacco con la squalifica di Saraniti e allora il 4-3-3 diventa molto mobile con Santarpia, Giovinco e Pacilli, partenza sprint però della Fidelis Andrea per l'occasione già nei primi minuti con un pressing molto alto e dopo neanche 8 minuti arriva il gol del vantaggio, Casoli da sinistra, crossa per la corrente Bubas, bravo al volo a colpire il pallone quel tanto che basta per battere, Chiorra, quarto gol in campionato, sesto complessivo per l'attaccante argentino al momento miglior marcatore in assoluto dei Biancazzurri, la Fidelis prova a spingere sull'acceleratore, buona volontà, da poco più di 20 metri calcia in porta, tiro insidioso che si spegne di poco sul fondo, la replica del Taranto arriva dopo 20 minuti di gioco ed è nei piedi di Marsili che da posizione defilata allarga troppo il sinistro davanti a Saracco si fa male Ferrara che alla mezz'ora è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto De Maria, pericoloso il tiro cross direttamente sul calcio di punizione di Nunzella che con il mancino mette i brividi a Chiorra la Fidelis abbassa il baricentro e gli ionici ci provano con più insistenza, Lampo, Di Gennaro che palla al piede per una trentina di metri, calcia in porta dal limite, sfera si stampa sulla parte alta della traversa sempre Sant'Arpia di testa anticipa Riggio su di uno spiovente da destra, sfera sul fondo nell'intervallo, saltano i nervi al DS del Taranto Montervino espulso dal direttore di gara per proteste ma è la serata della Fidelis e dagli spogliatoi torna in campo una squadra nuovamente aggressiva e ben messa in campo e dopo neanche 5 minuti di gioco arriva il raddoppio azione avviata da Casoli, palla profonda per Gaeta che è bravissimo ad accentrarsi e a calciare potente e preciso sull'angolino opposto senza lasciare scampo a Chiorra, lunga, corsa sotto la curva nord per il centrocampista al suo secondo gol stagionale, una rete che assume però una valenza capitale per i padroni di casa che praticamente in questa stagione non aveva mai avuto due reti di vantaggio in una gara e la Fidelis insiste con il colpo di testa di Alcibiade che sfila di un soffio sul fondo, sugli sviluppi di un corner, corre ai ripari con un doppio cambio la terza che inserisce forze fresche in avanti con Civilleri e Turi ed è proprio Civilleri a sfiorare il gol a neanche un minuto dal suo ingresso in campo con una sforbiciata in aria che finisce di poco sul fondo bene il match e in campo ci va anche Monterisi, motorino sulla destra assieme a Ciotti, inesauribile nella serata del Degli Ulivi Giovinco replica direttamente su punizione, sfera di poco a lato, molto più pericolosa la parabola su calcio di punizione disegnata da Leonardo Nunzella che si stampa direttamente sul palo, palla che però diventa buona per Monterisi tutto solo non sbaglia il tris facile facile per la prima marcatura in campionato, esordio in casa Fidelis anche per il classe 2005 e Calamita direttamente dalla primavera e al Taranto saltano definitivamente i nervi quando allo scadere c'è il secondo giallo per Sant'Arpia che gli costa l'espulsione e la parola fine sul match i biancazzurri trovano i tre punti, staccano la Vibonese ma devono assolutamente guadagnare terreno sulle altre davanti per il Taranto invece è notte fonda con il successo che ora manca da otto giornate Grazie